Allora, nuova puntata pronti, fit check, outfit fresco, raga, magna chicca incredibile questa, fresco di zona. Ma che stai dicendo? Ma che fresco di zona? Ma com'è abbinato ste cose? Gianluca, ma dove stai andando? Ma vai a cambiarti. Se sei coraggioso, la canotta la devi mettere senza la febbra. No, forse un po'... Vabbè, non va bene, devo... Vai a cambiarti.